Sono Simona Vignali ma prima di essere un'esperta di naturopatia sono sempre stata una studiosa di Ayurveda. Ho iniziato a conoscere e approfondire l'Ayurveda già da ragazza quando studiavo lingue e culture orientali all'università di Venezia e viaggiavo spesso in India. Ora vi spiego perché ho sempre considerato l'Ayurveda così interessante e così importante. Perché è una scienza che proveniendo dalla cultura orientale tiene in grande considerazione l'essere, la coscienza, la conoscenza di sé e propone una lettura comprensibile a tutti e molto precisa per capire chi siamo veramente, intimamente, senza ricorrere alla psicologia o alla psicoanalisi. Con l'Ayurveda puoi veramente conoscere te stesso, quindi capire e accettare la tua forma, il tuo aspetto fisico, i lati del carattere, le tendenze, i pregi, i difetti. Puoi smettere di desiderare di essere qualcosa di diverso da quello che sei e sviluppare le tue vere potenzialità. La filosofia ayurvedica è molto profonda ma anche molto pragmatica. Ha elaborato un sistema semplice per conoscere e capire se stessi. Noi occidentali abbiamo bisogno di test, esami, analisi, psicologi, psicoanalisti ed è tutto sempre piuttosto frammentato e comunque correlato ai disturbi. Ci si studia per capirsi quando si sta male, per trovare le cause del proprio disagio. Invece con l'Ayurveda puoi conoscere te stesso anche quando stai bene e definire con precisione qual è il tuo stile di vita ottimale per restare in forma, pieno di energia, quale cibo preferire, quale sport, hobby, vacanza, lavoro, arredamento, abbigliamento sono più adatti a te per il tuo benessere globale. Tutti dovrebbero ricevere una lettura ayurvedica e insieme all'esperto di Ayurveda mettere a punto le strategie migliori per il benessere di corpo, mente e spirito. Sono a disposizione per una consulenza ayurvedica. Contattami se vuoi migliorare la tua vita naturalmente. Grazie a tutti.